ok ragazzi allora stamani ci facciamo un po di yogurt latte ok ciao ragazzi dopo la colazione una bella corsettina ok ragazzi dopo una corsettina mattutina un po di stretching ok ragazzi una bella doccia e si parte di slancio ciao amici del tempio ciao a tutti siamo nel pomeriggio e siamo pronti per un super mega allenamento pomeriggiano facciamo un po di cose seguitemi e state collegati ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona giornata, oggi un grandissimo allenamento dalla mattina alla sera, spero che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina, al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie a tutti.